Gli italiani si sa amano vincere facile, per questo gli piace grattarsi e grattare. E quale migliore sport se non il gratta e vinci? Dopo mega miliardario, nuovo miliardario, turista per dieci anni, sbanca tutto, caraibi, mi sento fortunato, Natale in famiglia, tesori del pasciamega, turista per sempre. Ci voleva proprio un nuovo gratta e vinci? Assolutamente no! Nooo! Ecco perché Merdius ha inventato per te il gratta e perdi. Pensionato di merda, il primo gratta e perdi di Merdius, vinci fino a 300 euro al mese da quando hai compiuto 90 anni. Per scoprire se hai vinto, gratta le cacchine e se trovi due travi nel culo, finalmente potrai goderti gli ultimi anni della tua vita, sopravvivendo indecorosamente grazie ai tuoi 300 miseri euro al mese. Pensionato di merda, la vincita che non avrei il tempo di raccontare. Impalio tantissime suonerie di Merdius. Gni, 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 gni. Pensionato di merda, la vincita, la vincita, la vincita, la vincita, la vincita invece della tua vita. Grazie a tutti